musica musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo videocontest io sono Xyuder e io la Fabina ragazzi questo contest è veramente veramente specialissimo molti mi hanno detto che ho un corredore amore mio perché in questo contest ragazzi regaleremo tre passi a battaglia della nuova stagione 5 di Forte ora ragazzi ascoltate bene lui vi spiegherà tutto, non è per tutti questo contest ragazzi funziona così io ci tengo tantissimo che i ragazzi che non possono ottenere il pass battaglia giochino con il nuovo pass battaglia quindi ragazzi l'estrazione avverrà come sempre saranno tre estrazioni di fila e dovrete no prima di dirvi la parola ragazzi spiega spiega prima voglio che i commenti sotto questo video siano solo ed esclusivamente dei ragazzi che non hanno il pass battaglia e comunque prima di darvi qualunque cosa il vincitore noi vedremo bene se ha il pass se gioca a Fortnite detto in due parole ragazzi il vincitore mi manda la richiesta di amicizia e io guardo che effettivamente non ha il pass battaglia se no non verranno dati se no non verrà dato ragazzi si si spiegato benissimo otterranno questo premio come ho già detto questa mattina solo tre ragazzi che non hanno il pass battaglia tutto quello che dovete fare è semplicissimo dovete commentare e qua sotto con la parola che vi dirò io anche io voglio il pass anche io voglio il pass non dovete fare altro un commento solo mi raccomando siate alle 22 questa sera in live noi ragazzi quello che dobbiamo dirvi io ve lo abbiamo detto cercate di ricordarvi che questo contest è solo per i ragazzi che non si possono permettere il pass gli altri non verranno caccolati gli altri parteciperanno al solito contest quello che facciamo ogni volta che raggiungiamo gli iscritti noi ci vediamo in live ciao grazie a tutti